Musica È stato un bel pomeriggio con tante persone, una festa, caldo, sole e i ragazzi sono divertiti. Per loro lo sport è fondamentale, vedere il mio figlio giocare è sempre un'emozione, da mamma c'è sempre anche un po' di ansia per il risultato della partita. L'Incam è un'azienda che fornisce internet. Hanno organizzato questo speciale festival per dare la fine a quest'anno 2016-2017. Ci hanno radunato tutte le categorie qua, Giulio Nesti, in una coreografia che mostrava una scritta. Grazie Roma! È stata un'esperienza bellissima, siamo stati premiati da personaggi famosi o ex giocatori come Pazzaretti. Ho iniziato a giocare a calcio a quattro anni e mezzo, difensore. Mi mettono oppure o esterno oppure attaccante. Da grande vorrei fare il calciatore. Da grande vorrei fare il calciatore, se no se non riesco ad arrivare fino là vorrei fare un ingegnere. Quando non so delle cose vado a cercare il significato magari su internet. Internet lo uso per fare ricerche di scuola, quando la maestra mi cade un argomento. Per noi è l'onore più grande, devo dire. Il fatto che il marchio della nostra azienda, che poi in qualche modo racchiude le nostre attività quotidiane, sia sulla maglietta di questi ragazzi, penso non ci sia onore più grande e soddisfazione più grande. Perché partner del futuro, no? Ma che vuol dire? Pensate che Linkham è nata pochissimi anni fa in realtà ed è stata inventata in un pub di Londra, che è nella casa dove è stato scritto Peter Pan. Peter Pan ha a che fare col futuro, con i sogni e con i ragazzi. Quindi noi veramente qui giochiamo in calda. Oggi è la fine di una stagione ricca di passione, di divertimento, di gioco, a cui hanno partecipato 700 bambini dai 5 anni fino ai 12 anni, con 100 ragazze e un gruppo di ragazzi di calcio integrato che ci ha dato grandissime soddisfazioni. Sicuramente Linkham ci ha fatto fare quel salto di qualità e noi siamo orgogliosi e contenti di averli vicino a noi, affianco a noi e vogliamo crescere insieme a loro e andare veloci come vanno loro. Grazie a tutti. Grazie a tutti.